Qual è il prossimo passo in Parlamento per legittimare le adozioni per le coppie gay e anche per far sì che non sia sempre la giurisprudenza a rincorrere la legge? Beh, questa è una domanda che va troppo di corsa per il Parlamento, nel senso che noi siamo in attesa entro il 5 del prossimo mese del decreto attuativo anagrafe che permetterà finalmente ai sindaci di fare le unioni civili, quindi il mio lavoro fino al 5 luglio sarà a seguire il decreto. È chiaro a tutti che l'articolo 20 del maxi emendamento del governo che recepiva in pieno il mio testo dice che i giudici continueranno ad applicare le leggi sulle adozioni e in particolare l'adozione coparentale del figlio del partner. È chiaro che bisogna rimettere mano completamente al testo della legge sulle adozioni, ma non bisogna farlo nell'ottica del riconoscimento di famiglia arcobaleno, bisogna farlo nel riconoscere l'adozione ai single, l'adozione ai conviventi, l'adozione agli sposati e agli uniti civilmente. Quindi quella legge servirà per dare ad ogni bambino la giusta famiglia. Lei di recente ha dichiarato che rimettere mano in quel momento con questa formazione parlamentare alla legge sulla fecondazione assistita sarebbe stato il suicidio del DDL Cirinna. In cosa pensa che la legge 40 vada superata? La legge 40 secondo me andrebbe cancellata. L'ha fatta già a pezzi la Corte Costituzionale con tantissime pronunce. La legge 40 è una legge che nasce discriminatoria in partenza. Nel suo articolo 1 dice che queste tecniche non si applicano a coppie di persone dello stesso sesso. Quindi oggi che l'eterologa è stata riconosciuta per gli eterosessuali in Italia le nostre ragazze lesbiche vanno in Spagna a fare l'eterologa. Quindi è una legge che andrebbe completamente rivista, frutto di uno scontro ideologico dentro il Parlamento, che è quello che avrebbe travolto anche il testo sulle unioni civili se non avessimo avuto la lungimiranza di mettere a riparo quello che riuscivamo a fare. Io dico sempre che la legge Cirinna è una legge che riconosce il primo passo verso l'uguaglianza. Non si arriva all'uguaglianza vera senza matrimonio. In un'ottica di lungo periodo non penso che sarebbe meglio normare la maternità surrogata piuttosto che vietarla. All'ATU-CUR ci sono attualmente anche dei DDL presentati dalle opposizioni che tendono ancora a inasprire le pene per chi vi ricorre anche all'estero. Io penso che la maternità surrogata che in Italia è vietata e resterà vietata per questo periodo va legata a un grave problema che l'Italia ha, che è quello della sterilità. La maternità surrogata non va vista come tecnica di proiezione assistita destinata a due uomini che tra loro non possono avere un bambino. Va guardata in quell'ottica di sconfiggere la sterilità, l'ottica indicata da Umberto Veronesi, che non mi sembra un pericoloso anarchico come molti hanno detto di me, ma semplicemente una persona che sa che il 98% di chi si rivolge alla maternità surrogata nel mondo sono eterosessuali sterili. Quindi se la vediamo come una possibilità nella libertà della donna di scegliere, nella libertà dei paesi di darsi una norma ovviamente di rispetto della donna che si presta a questo, mi sembra una buona possibilità. A proposito di problemi culturali, da un festival che si occupa di tematiche di genere, cosa si sentirebbe di dire a chi lamenta una invasione di questa fantomatica ideologia gender nelle scuole e la guarda insomma con un po' di sospetto? Dico che si usano le parole straniere quando non si vuole far capire niente alle persone, quindi gender non vuol dire niente come non vuol dire niente stepchild adoption. Se avessimo spiegato agli italiani che noi volevamo estendere la responsabilità genitoriale sul figlio del partner, quello che già avviene tra gli sposati, molti avrebbero compreso e non si sarebbero opposti. Se noi parliamo di rispetto della differenza di genere, di educazione ai sentimenti e di educazione alla possibilità di essere inclusivi e rispettosi per tutti, penso che nessuno si può opporre. Quindi io dico intanto usiamo il nostro meraviglioso italiano e spieghiamo ai medievali ovunque si siedano, perché ce ne sono tanti anche nel mio partito, che per uscire dalle discriminazioni bisogna affrontare un'educazione e un rispetto alle culture diverse dalle nostre. E quindi ogni diversità è un valore, una ricchezza e va accolta.